Salve, sono Anna Volpi, sono presidente dell'associazione La Papessa a Mantova, presidente della Biennale della fotografia femminile. Qua abbiamo la mostra di Rene Fendi, Transylvania built on glass, che Riaperture ha gentilmente ospitato perché noi dovevamo avere il festival a marzo. Stiamo riaprendo le mostre in maniera scaglionata e dunque ringraziamo tantissimo il festival per questa opportunità, così portiamo un po' dal nostro festival in Ferrara e c'è un bello scambio tra i festival. Credo che Riaperture sia un festival molto importante perché avere un luogo fisico è importantissimo perché ti apre la mente, perché ti apre la voglia di fare cose e tutte le città, i privati, gli enti pubblici dovrebbero veramente spingere e rafforzare questa cosa. Ci vediamo qua!